E' cominciato tutto con delle verifiche effettuate per iniziare dei lavori destinati all'efficientamento energetico della struttura. Per l'edificio che ospita locali uffici della provincia di Pesaro e Urbino però, i risultati hanno portato alla luce una situazione non prevista. Sono stati riscontrati infatti i problemi di sismicità legati al palazzo. Da qui la decisione obbligata di dover dichiarare inagibile la struttura, con il conseguente trasferimento dei dipendenti in altri stabili della città. Il perito che ha fatto questa analisi, questi carottaggi, ha evidenziato dei problemi. Dei problemi che noi adesso chiediamo di verificare con un ulteriore carottaggio in tutta la struttura e in più punti del palazzo, per vedere se sono veri oppure se sono state tratte delle considerazioni su una cosa fatta con, non dico un po' di leggerezza, ma non completa. Non voglio dire che non sia stato fatto bene, però vorremmo fare come quanto vai da un medico che ti fa una diagnosi, avere una seconda diagnosi. In base a questa analisi abbiamo cominciato a trasferire gli uffici nella vecchia palazzina della provincia che secondo questa analisi non avrebbe problemi. Una volta che abbiamo ulteriori analisi fatte decideremo sul da farsi. Attualmente stiamo spostando i dipendenti come dicevo nella vecchia palazzina e credo che nel giro di un paio di settimane, anzi anche che una settimana sia tutto nel vecchio palazzo, ci sia tutta la provincia lì e che continuerà a lavorare e funzionare tranquillamente in attesa di risposte su questa struttura. Sicuramente il trasferimento viene agevolato dal fatto che 39 dipendenti lavorano in lavoro agile, smart working, per cui non dobbiamo spostare 80 unità ma ne dobbiamo spostare solo 50, quindi questo ci facilita in questa prima fase. Poi dovremmo, se dovessero essere confermati i dati sui difetti, i problemi di questo edificio dovremmo poi pensare anche ad altre soluzioni alle quali in parte già stiamo lavorando perché stiamo contattando la regione Marche per vedere se è possibile ottenere intanto magari in locazione poi magari anche in proprietà quello che era chiamato il palazzo del turismo di fronte alla casa di Rossini in via Rossini appunto per collocare lì almeno 35 dipendenti più o meno. Abbiamo fatto il calcolo, ci potrebbero stare 35 dipendenti perché dobbiamo pensare poi anche al momento in cui i dipendenti che oggi sono in lavoro agile poi torneranno in ufficio. Qualcuno ha scritto secondo me in maniera impropria che questo edificio è un edificio di carta pesta che va raso al suolo. Io personalmente sono convinto che la situazione non è quella che è stata descritta. Non a caso ho contattato come ricordava prima il Presidente immediatamente l'Università di Ancone, Politecnico, il professore Dezzi il quale adesso farà un ulteriore controllo ma c'è stato un contatto informale e per ora questo contatto informale mi ha tranquillizzato nel senso che sta già emergendo che l'analisi va approfondita perché molto probabilmente la situazione dell'edificio non è quella che è stata descritta dal primo studio quindi io sono abbastanza tranquillo. Poi vediamo un attimino come andranno le prossime indagini.